Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, c'è stata la presentazione del ritiro a Casteldisangro, dette cose importanti però che ci interessano fino ad un certo punto, perché quello che ci interessa principalmente è la questione che riguarda l'allenatore ed Aurelio De Laurentiis ne ha parlato, fatevi prima salutare. Hola hermanito, sono G7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di toto allenatore, parliamo di calcio mercato, parliamo di voce di mercato, parliamo della voce di Aurelio De Laurentiis, voce di Aurelio De Laurentiis che è stata presente nella conferenza del ritiro a Casteldisangro, vi vado a leggere quelle che sono le sue dichiarazioni, che sono delle dichiarazioni, quindi, posso dire la verità, da persona, da uomo che guarda i miei video, cioè veramente sembra come se De Laurentiis guardassi i miei video, ve lo giuro. Comunque, nuovo allenatore Napoli parla De Laurentiis, io da oggi mi sono impegnato per verificare una lista che da 22 nomi è salita a 40 nomi, allora io non lo so se sta memando, cioè perché 22 e 40, soprattutto 22 mi sembrano dei numeri, cioè molto, 50 nomi, 100 nomi, 10 nomi, no, 22 ed è salita a 40, ci sono dei numeri accurati come se effettivamente il numero fosse quello, poi magari non su 40, su 39, 38, 37, non lo so, però così sembra, ci sembra una cosa accurata. Questo che cosa vi dimostra? Che quando io vi parlo di varie voci, di nuove voci, di allenatori differenti, vuol dire che effettivamente sul tavolo on the table ci sono più giocatori che potrebbero venire, più allenatori che potrebbero venire a Napoli, che ci sono più allenatori che sono sondati. Poi, ovviamente, le notizie non sono mie, io semplicemente commento ciò che viene detto e do la mia su un eventuale nuovo allenatore, magari puntando su uno che io preferirei e quello che io preferisco, lo sapete benissimo, è Luis Enrique. Mi sono impegnato per verificare, ripeto, una lista da 22 nomi che è salita a 40 nomi. Penso che in questa lista influisca anche la scelta di Cristiano Giuntoli, perché Cristiano Giuntoli, che pareva essere ormai ad un passo dalla Juventus, adesso pare essere lontano, perché De Laurenti Sogge ha fatto delle dichiarazioni un po' da matto, in cui ha detto, sono io il capo, Giuntoli non è il capo, quindi il direttore sportivo ha un contratto con me fino al 30 giugno del 2024, perché dovrei lasciarlo andare, Scanavino ha confermato Mann come DS, quindi pare che sarà Giuntoli comunque a fare il mercato del Napoli, pare che il Napoli quindi in questo momento un direttore sportivo ce l'abbia e quindi in questa lunga lista ci sia anche Giuntoli a prendere, diciamo non a prendere le decisioni, perché lo sappiamo che nel Napoli le decisioni le prende solo ed esclusivamente Aurelio De Laurenti, spero a partecipare e a consigliare sicuramente, sono sicuro che gli uomini principali ovviamente siano De Laurenti e il suo braccio destro Chiavelli, però magari in questo caso c'è Giuntoli che sta dando anche lui una sua mano, anche perché ha detto delle cose interessanti De Laurenti, adesso ci arriviamo, delle cose da persona che comunque ha parlato con uno che capisce di calcio, a meno che, non lo so, non si sia fatto consigliare dallo stesso Spalletti, non si sia messo a studiare della Laurenti, non lo so, però devo cominciare a verificarne le disponibilità, se sono adatti a un 4-3-3, adatti a linea di difesa e attacco alta, linea d'attacco vuole dire, i tre davanti, non lo so che cosa vuole dire, però il fatto della linea alta che cosa significa? Innanzitutto, escluso Benitez, vero Benitez fa un calcio all'attacco, però un calcio all'attacco molto spropositato, un calcio all'attacco non basato su dei concetti estremamente semplici, cioè è un'altra roba, questo che vuol dire? Escluso magari, vabbè chiaramente esclusi vari Allegri, Murigno, questa gente qui, esclusa gente difensivista, e su questo siamo contenti tutti, penso che siamo contenti tutti, nessuno vuole un gestore, nessuno vuole un difensivista. È un discorso che richiede tempo, poi bisogna capirne il carattere, ed è esattamente quello che sto dicendo io, il motivo per cui tipo io ho messo Luis Enrique sopra Nagelsmann, nonostante secondo me Nagelsmann sia un allenatore più bravo. Bisogna capirne il carattere, bisogna capire se sono culturalmente immettibili nella cultura per tenopeo. Ragazzi, è quello che sto dicendo io da tempo, è questione di attitudine, è questione di poterci stare in certi contesti, è questione di poter allenare una certa squadra, è questione di poter stare in una certa piazza, è questione di sangue in questi casi. Quello che sto dicendo da un po' di tempo, è questo che cosa significa? Dicendo questa cosa, facendo queste considerazioni, innanzitutto secondo me significa che De Laurentiis abbia fatto un passo in avanti, abbia incominciato a capire che certi allenatori a Napoli non ci possono stare. Lunga vita ai Sarri, agli Spalletti, ma lo stesso Gattuso, il tipo di allenatore, il tipo di allenatore sia chiaro, non come il tipo di allenatore, il tipo di uomo. Via da Napoli, vari Ancelotti, Allegri, Casperini, questa gente qua, perché è il contesto che è importante, è il contesto che è importante. È vero le idee sono fondamentali, ma è fondamentale anche il contesto. Sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo. Quindi questo che significa? De Laurentiis, a quanto pare, a meno che ripetano, stia facendo sempre un sacco di cinema, però in questo caso incomincio a pensare che non sia così, perché altrimenti l'avrebbe già annunciato. Siamo comunque a giugno e bisogna cominciare a programmare. Sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo, quindi sta chiamando vari allenatori, sta vedendo un po' con la situazione com'è. Poi devi dare anche la possibilità alla controparte di non accettare. La controparte deve capire cosa sta negoziando. Non mi pongo mai delle date, questo è vero, lo sappiamo, della Laurentiis sugli ultimatum, cioè veramente se deve arrivare all'ultimo secondo fa le cose anche all'ultimo secondo, lo sappiamo benissimo. Poi c'è sempre la chimica, uno può anche sbagliarsi. Prima potrò decidere e più sarò soddisfatto di essere operativo sul piano degli orali prima degli iscritti durante l'ultimo. Sta a scendere, che strana, c'ha la misera. Poi vabbè, qui fa una precisazione importante che sappiamo benissimo. Voi sapete che i contratti da noi si fanno seriamente, quindi poi la controparte prende tempo perché non tutti sono abituati ad essere rappresentati dagli avvocati che ragionano come noi, semplicemente dei pazzi scatenati che è un contratto valido nell'universo e questo di lì è quello di lì, cioè che l'ha fatta spiegazione a che tempo che fa, dicendo sì, ma poi se tu mandi un'immagine del Napoli nello spazio di qui, di lì, e se poi tra qualche anno noi arriviamo su Marti, cioè questo veramente vive nel 4000, non nel 3000, nel 4000 di Orale della Laurentiis. Dal mio punto di vista, se vogliamo essere davvero logici, vogliamo dire che il tempo limite massimo è il 27 giugno perché se io entro il 27 di giugno e la donna è pronta a sedersi con noi, dal 27 in avanti ho 16 giorni per calibrare l'organizzazione, come si deve muovere e come ci dobbiamo comportare. Secondo me il 27 di giugno è già tardi, è tardi ragazzi, al momento siamo al 7 di giugno, il 7 di giugno è abbastanza in avanti, onestamente già col tempo, il 27 è proprio tardi, è proprio tardi perché vuol dire che tu arrivi tardi anche sul mercato perché tu il mercato senza l'allenatore non lo puoi fare perché ci sono i giocatori adatti a qualsiasi contesto, ci sono i giocatori che sono forti a prescindere intorno ai quali devi costruire il progetto, però il mercato lo devi fare prima, devi incominciare a muoverti prima, lo devi fare in base a quelle che sono le esigenze dell'allenatore, quella è la cosa fondamentale. Se cerco un manager, io non ho bisogno di un manager, c'è una squadra di management, allora invece su questo non sono d'accordo perché un manager ci vuole, ci vuole sempre, ci vuole sempre più gente, più gente c'è, meglio è, più gente che sappia di calcio, che conosca il calcio, che massichi il calcio c'è, meglio è. Ovviamente il primo nella mia lista è sempre Rafa Bengalsi. Questa è la situazione, ragazzi, io continuo a pensare che il favorito, quello che penso io, sia Luisa Enrica, anche perché Della Laurenti si ha parlato anche della questione riguardante italiano, adesso non trovo, non trovo il momento in cui parla di Vincenzo italiano, dove, ragazzi, comunque lui parla del fatto che italiano non è in questa lista perché ha un contratto con la Fiorentina, poi se dovesse rompere, adesso mi trovo le dichiarazioni precise, ecco qua, allora, allora, l'ho perso, l'ho perso, l'ho perso, lo troverò mai, ecco qua, italiano non è nella mia lista, italiano non è nella mia lista per la questione dell'amicizia con con Rocco commisso, ragazzi, quello che abbiamo detto fino ad ora, poi, è comunque vero che è comunque vero che oggi è una finale, Vincenzo Italiano, quindi questa è una cosa da tenere assolutamente in considerazione, ecco qui le dichiarazioni su Vincenzo Italiano, tra l'altro, tra le nomi cantità della panchina c'è anche qualcuno che ha già allenato il Napoli, un rapporto amicale con chi ha allenato il Napoli, non farete il bene a nessuno a farlo ritornare, però mai dire mai, penso che qui si riferisca a Mazzarri, e a Mazzarri, a Benitez, non penso a Sarri, che c'è Mazzarri? Allora, Italiano, un bravissimo allenatore, ma impegnato con la Fiorentina, non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici che la pensano come me, che fanno le battaglie con me, quello che abbiamo detto, questa è una cosa fondamentale, poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club, allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione, qui sta facendo comunque capire che c'è della stima nei confronti di Vincenzo Italiano, ma nella mia lista di 49, ripeto, dice ancora 40, io non l'ho messo perché sapendo che ha un contratto, puntini, 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 io tra l'altro pensavo che questo fosse il suo ultimo anno, invece ho scoperto che ha un altro anno di contratto, questo per far capire che è interessato, ora dovrò capire chi può sedersi al tavolo, anche perché non ho nessuna intenzione di pagare penali, e quando mai, visto che venire a Napoli non è un obbligo, mamma mia, questa è proprio una classica de-aureliata, questa è proprio un'aureliata clamorosa, questo è quanto ragazzi, comunque per quanto riguarda la conferenza di Aurelio e dell'Aurentis, esclude Italiano, ma non lo esclude, dice che ci sono 40 nomi in lista, ma non ne annuncia nessuno, classica a interviste da Aurelio e dell'Aurentis in cui dice tutto e dice niente, mi raccomando ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione dove vedete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico teleclipp, momenti iconici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, Forza Napoli!